E' stata fissata per domenica 4 dicembre la data del disinnesco e brillamento dell'ordigno bellico della seconda guerra mondiale ritrovato il 18 ottobre in strada a Montefeltro nella rotatoria collocata fra autostrada, zona industriale e frazione di case bruciate. La bomba di circa 500 chili fu sganciata da un aereo durante la seconda guerra mondiale, ha sonnecchiato in esplosa sottoterra per 70 anni prima di essere rinvenuta un mese fa dagli operai al lavoro sulla strada durante gli scavi preparatori alla realizzazione della cosiddetta bretella gamba, ovvero una delle opere compensative previste da società autostrade funzionali a collegare la zona di Villa Fastigi a quella del casello. Ieri in prefettura si è tenuto il comitato per la sicurezza pubblica che ha previsto l'intervento di bonifica dell'ordigno per la mattina del 4 dicembre. Un'operazione che per ragioni di sicurezza comporterà una massiccia evacuazione della frazione di case bruciate e di parte della zona industriale. 900 residenti saranno infatti chiamati fuori dalle proprie abitazioni fra le 6.30 e le 8 di mattina con la Vitri Frigo Arena che sarà predisposta come centro d'accoglienza per chi non troverà ospitalità da parenti o amici. Oltre all'evacuazione è prevista anche l'interruzione del traffico in autostrada e nelle vie limitrofe. L'operazione sarà coordinata dagli artificieri dell'esercito di Bologna già intervenuti a Pesaro il 18 ottobre scorso al momento del ritrovamento. Alle 9 la bomba sarà disinnescata e trasportata in un'area isolata che è stata individuata in strada di Stroppato nel comune di Tavuglia. Qui verrà fatta brillare per operazioni che dovrebbero concludersi attorno a mezzogiorno.